Eccoci qua! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo è il primissimo video che giro interamente dalla nuova postazione. Ho impostato tutte le luci, tutte le varie cose, eccetera, eccetera. E a proposito, se siete curiosi di sapere, di vedere come ho attrezzato tutta la stanza, beh, mi raccomando, fatemelo sapere con un commento qui giù e magari ci porterò un video apposito. Ma adesso non perdiamo altro tempo e lanciamo subito la sigla, perché dopo dobbiamo parlare di lei. Per cui, sigla! Eccoci qua e ben ritrovati sul canale. Dunque, come avete già letto dal titolo e abbiamo detto prima della sigla, oggi parliamo di lei. Mamia 645. Allora, questa qui è una pietra miliare della storia della fotografia. E io sono veramente contento di averne una che faccia parte della mia collezione di macchinette analogiche. Voi, se siete iscritti al canale, già lo sapete che io ho la malattia, ho la fissa per le fotocamere analogiche. Le preferisco a quelle digitali, soprattutto quando scatto così per divertimento. Ma se non siete ancora iscritti, quindi non lo sapevate questa cosa, beh, allora iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che io carico un nuovo video sul canale. Dicevo, quelli che già mi seguono sanno che io sono fissato con le macchinette a ruolino, le macchinette a pellicola. Ho una compattina automatica, ho la Yashica che è una reflex completamente analogica, con cui ci faccio delle foto veramente pazzesche. Ho la Istax Mini e questa qui, signori, è una medio formato, è la Mamia 645. Allora, la Mamia 645 è una fotocamera medio formato, quindi monta su i rullini 120 mm. Nello specifico, in questo momento, c'è un Ilford Plus 125. Ilford, per chi non lo sapesse, è una marca che fa rullini in bianco e nero. Qui dietro si mette il rullino, adesso non posso farvi vedere come si fa, ma c'è un altro video, ve lo lascio qui su, mi sembra? Sì? Comunque ve lo lascio nelle schede. Un video apposito dove vi faccio vedere come si cambia il rullino da 120 mm sulle medio formato, sulla Mamia. Poi abbiamo di qui la ghiera, appunto, questa qui. Sul lato sinistro abbiamo la ghiera per impostare le velocità di scatto e, nello specifico, abbiamo la modalità bulb, che è quindi quella che finché teniamo premuto il pulsante di scatto, l'otturatore rimane aperto. Abbiamo 8 secondi come tempo più lungo, in automatico, e abbiamo un 0,05 di secondo come tempo massimo, con il tempo più veloce. Qui dietro dove c'è il mirino c'è questo pulsante che serve appunto per scollegare tutta la parte superiore della Mamia, perché ne esistevano, ne esistono, si trovano ancora in commercio, ma costano, dire di Dio, su Ebay, vari tipi di mirino. C'è questo qui, che è, diciamo, quello classico che si trova anche nelle reflex moderne, per cui tu guardi, no? Ci sono molti specchi, oppure c'è quello a pozzetto, che è praticamente, si può alzare qua, tu guardi proprio nella macchinetta dall'alto, vedi la foto riflessa, come se fosse uno schermo, ecco. Come state vedendo, poi, tra l'altro, monta un 45 mm f2.8, f22. Che altro c'è da dire? Di qua, da quest'altro lato, abbiamo l'indicatore delle pose che sono rimaste, abbiamo la manopola per avvolgere il rullino, che si può o girare direttamente così, oppure, ecco, si può tirare via la manovella fuori e giri la manovella. Poi, 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 di qui abbiamo le levette multi, che se le spostiamo servono a fare le esposizioni multiple, quindi a esporre più volte la stessa porzione di negativo, quindi per fare degli effetti un po', no? Di doppia esposizione molto, molto figli. E qui poi abbiamo, inoltre, oltre al fantastico scotch, che purtroppo qui è danneggiato un gancetto, per cui si stacca, che ci devo mettere lo scotch, se no è la fine. Questo pulsante qui, che serve per vedere se la batteria è carica, infatti, premendolo, si accende poi la luce da quest'altro lato, è questo, che è il pulsante di scatto. Pulsante di scatto che abbiamo anche posizionato qui davanti, e dove si può, qui, si può innestare il tubicino per fare l'autoscatto, lo scatto remoto. Dunque, e questo è un po', questo è un po' come è fatta tutta la mania 645. Adesso la poggio un attimo, perché pesa l'ira di Dio, e vi dico qualche altra cosa in più. Una cosa molto fondamentale che c'è da sapere su questa macchina fotografica, è che è talmente antica che non ha neanche l'esposimetro incorporato. Quindi, come cavolo si fa a sapere quali valori bisogna impostare per scattare correttamente? Beh, c'è bisogno o di tantissima conoscenza delle condizioni della macchietta, ma quelli ti vengono soltanto dopo vari tentativi, no? Che tu ti impari più o meno i valori che puoi andare a impostare in base alle varie condizioni di luce e di profondità di campo. Oppure, molto più facilmente, si prende una cosa come questa, che è un semplice esposimetro. Un esposimetro esterno che, sapete, su Amazon esistono di ogni tipo. Io ho questo qui super figo, ve lo faccio vedere meglio se lo metti a fuoco. Ecco qua, vedete? Che, come potete notare, ha l'attacco Lightning. Se vi interessa sapere qualcosa di più su questo esposimetro, lui si chiama Lumu, e vi lascio nelle schede, non mi ricordo mai se è di qua o di qua, comunque ve lo lascio nelle schede, un video dedicato dove ci ho fatto la recensione e, pazzesco comunque, lo innestate all'iPhone e lui vi calcola i valori da impostare su una macchina fotografica. Non è molto che possiedo questa mamia, sono riuscito fondamentalmente a scattare e sviluppare due rullini. Vi dico subito che, nonostante la banalità degli scatti che ho effettuato, perché il primo rullino ero in quarantena totale, costretto dentro casa, quindi ho scattato dentro casa e quello che riuscivo a vedere dal mio balcone, quindi le foto, diciamo che, a livello di creatività, non sono proprio il massimo. Il secondo rullino, invece, l'ho scattato durante una nevicata e durante una passeggiata per la mia città, che è Sulmona, e tra poco vi farò vedere gli scatti, comunque, che sono venuti sia con il primo rullino, sia con il secondo. Vi voglio fare due piccolissimi appunti prima di farvi vedere gli scatti, che sono, per quanto riguarda il primo rullino, cioè quello che ho scattato in casa, devo dirvi che ha tirato fuori una resa pazzesca. Le foto sono super nitide, sono fighissime, cioè nonostante siano degli scatti banali, a livello di qualità fanno veramente paura, e considerate che io li ho scansionati con il mio scanner domestico, quindi neanche tutta questa attrezzatura pazzesca, ok? Immaginatevi, quindi, se li fate, poi li scansionate con uno scanner dedicato apposta alla scansione dei negativi, viene fuori una roba assurda. Per quanto riguarda il secondo rullino, invece, le foto sono un po' più belle, perché, insomma, le ho scattate in giro, quindi sono un po' più dinamiche, però ho notato che sono molto, molto rovinate, ma, secondo me, questo dipende esclusivamente dai rullini, perché sto usando dei rullini che sono scaduti negli anni 90, forse anche prima, non mi ricordo, mi pare, nell'87, e, secondo quanto ho ipotizzato, il primo rullino, evidentemente, si era conservato meglio nel tempo, per cui le foto sono venute pazzesche. Il secondo, invece, presenta delle macchie, delle cose, soprattutto sui primi scatti, quindi quelli dove la pellicola rimaneva più esterna. Invece, più vado avanti con gli scatti, mi sono accorto che gli ultimi scatti, a livello qualitativo, sono venuti meglio, forse perché poi all'interno la pellicola si era preservata maggiormente, non lo so, questa è stata la mia ipotesi. Ad ogni modo, adesso ci ho montato un altro rullino, e appena ne trovo comunque uno che non è scaduto, o che magari è scaduto ma è stato conservato molto bene, ci farò un altro video dedicato. Allora, io credo di essermi dilungato a sufficienza per quanto riguarda questo primo video dedicato alla Mamiya 645. Prima di salutarvi, però, vi ricordo un po' le solite cose con l'aggiunta di qualche extra. Allora, innanzitutto, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non foste iscritti, ed attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che io carico un nuovo video. Vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto, perché per voi è gratis, ma per il canale, per la crescita del canale, è davvero molto importante. Vi ricordo che in descrizione trovate tanti link utili, tra cui quello al mio canale Telegram, canale dove ogni giorno posto le migliori offerte Amazon, e soprattutto uno sfondo per il computer e uno sfondo pazzesco per il cellulare. Vi invito poi a seguirmi su Instagram, perché lì nelle stories vi tengo aggiornati quotidianamente. Ed infine, se la fotografia analogica vi appassiona, vi consiglio di fare un salto anche sul mio profilo Instagram dedicato alla fotografia analogica. Lì ci posto soltanto scatti effettuati con macchine analogiche. Trovate sia il link sotto, che ovviamente potete anche cercare direttamente su Instagram il link che esce sovraimpresso in questo momento. Io credo di aver detto tutto, per cui vi lascio alla visione degli scatti, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!